L'Abruzzo si appresta ad essere protagonista alla BIT, Borsa Italiana del Turismo, che si terrà la Fiera di Milano dal 10 al 12 aprile prossimi e che vedrà la nostra regione presente con uno stand di 300 metri quadrati e 17 postazioni di altrettanti operatori turistici. La nostra regione sarà presente anche con 7 DMC, consorsi, associazioni di albergatori e direzione di parchi e soprintendenze per mostrare il meglio del nostro territorio, sempre più all'insegna della biodiversità e dell'accoglienza. L'Abruzzo riversirà sicuramente un ruolo protagonista con un padiglione importante, diciamo che sarà un padiglione di circa 300 metri quadrati con un'area conferenza importante e soprattutto con la presenza di 18 postazioni, le chiamerei così, in cui tutti gli operatori avranno la possibilità di far vedere ciò che di bello l'Abruzzo ha da mostrare. L'Abruzzo si ha già un esempio di sostenibilità a livello nazionale e direi anche europeo perché riesce ad unire in maniera sostenibile la più grossa concentrazione, diciamo che siamo la regione più industrializzata del Mezzogiorno, però riesce a far conviverlo, questa forte presenza industriale riesce a farla convivere con tre parchi nazionali, un parco regionale, una meridio di protette che rendono l'Abruzzo sicuramente uno scrigno della biodiversità. Avremo convegni importanti con personaggi importanti dello sport, avremo Nico Romito che ritengo che sia l'ambasciatore del buon mangiare e del buon vivere in Abruzzo in cui presenterà con una conferenza stampa il suo progetto finanziato da regione Abruzzo sul suo campus dell'alimentazione. Avremo la presenza lunedì del ministro Caravaglia che verrà nel nostro stand per parlare insieme ad altri colleghi assessori regionali delle altre regioni per parlare sui lavori che stiamo portando avanti come commissione politica del turismo che mi onoro di presiedere.